Tra poco, tempo reale. Radio Icaro, tempo reale, tempo reale. Home Banking e carta prepagata in omaggio. Ti aspettiamo nelle nostre 18 filiali su www.bancadirimini.it e sulla nostra pagina Facebook. Tra poco, Icaro Tg. Banca di Rimini, la banca del territorio, presenta Conto Futuro, il conto corrente gratuito per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. Un conto deposito dall'elevato rendimento in cui tutta la famiglia può versare con comodità anche con accantonamenti mensili. Home Banking e carta prepagata in omaggio. Ti aspettiamo nelle nostre 18 filiali su www.bancadirimini.it e sulla nostra pagina Facebook. Tra poco, rassegna stampa il punte. Banca di Rimini, la banca del territorio, presenta Conto Futuro, il conto corrente gratuito per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. Un conto deposito dall'elevato rendimento in cui tutta la famiglia può versare con comodità anche con accantonamenti mensili. Home Banking e carta prepagata in omaggio. Ti aspettiamo nelle nostre 18 filiali su www.bancadirimini.it e sulla nostra pagina Facebook. Tra poco, la rassegna stampa. Banca di Rimini, la banca del territorio, presenta Conto Futuro, il conto corrente gratuito per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. Un conto deposito dall'elevato rendimento in cui tutta la famiglia può versare con comodità anche con accantonamenti mensili. Home Banking e carta prepagata in omaggio. Ti aspettiamo nelle nostre 18 filiali su www.bancadirimini.it e sulla nostra pagina Facebook. Oggi in Edicola. Rassegna stampa. Tra poco, rassegna stampa, tutto Rimini Economia. Banca di Rimini, la banca del territorio, presenta Conto Futuro, il conto corrente gratuito per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. Un conto deposito dall'elevato rendimento in cui tutta la famiglia può versare con comodità anche con accantonamenti mensili. Home Banking e carta prepagata in omaggio. Ti aspettiamo nelle nostre 18 filiali su www.bancadirimini.it e sulla nostra pagina Facebook. www.bancadirimini.it e sulla nostra pagina Facebook.